E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TheGamerTube Come vedete siamo su Clash of Clans Perché oggi porto una bella war Il primo video sulla war Penso di fare due video Perché lo divido in due parti Per non farlo diventare lungo lungo Ancora alcuni devono attaccare Detto questo ragazzi Perché questa war registra? Perché gli avevo promesso i miei I miei memory del clan Perché questo clan è fondato da luglio Perché da luglio non porto video Che se il clan arrivava a livello 2 Gli facevo tipo una sorta di festa Tipo registravo questa war Così via dicendo Gli è piaciuta l'idea Perciò la sto portando Ragazzi un macello di cose ho migliorato Questo al 9, questo sta diventando pure al 9 Questo al 9 Ho sbloccato i pecca Infatti sto attaccando solo con i pecca Questo clan ha avuto i suoi alti e bassi Perché siamo arrivati una volta 50 membri pienissimi Poi siamo scesi Ora siamo tipo Quanto quanto 22 Abbiamo vinto 2 war su 5 Se non qualcuno in più Comunque vediamo questi attacchi Della giornata Stiamo dicendo 17 a 7 Loro 8 attacchi 7 stelle prese Noi 12 e loro E noi 17 stelle prese Vediamo subito gli attacchi Questo è il mio ragazzi Sto attaccando il mio Ho attaccato il mio corrispondente Ho sbloccato pure la furia ragazzi Comunque metta per 4 Così per andare veloce Così non dura molto Il video Allora Ho messo qualche pozione là Perché se no morì Una pozione furia Una pozione là E ragazzi All'inizio non pensavo di fare 100% Pensavo di fare almeno 2 stelle come minimo Alla fine mi sono rimasti un botto di arcieri Almeno Se non sbaglio Una quarantina Se non 50% Ho fatto 100% Non me l'aspettavo Ovviamente Ho preso Di più di quello che ho speso Di Alisir Black Templar Pre livello 60 Di più di me E ho attaccato questo Con Maki Gigal Due draghi Vediamo Mettiamo per 4 Da dire Che ha avuto un po' di sfortuna E che poteva fare di meglio Per un livello 60 Questo Dovebbe essere Abbastanza facile Il drago Del clan avversario L'ha disturbato Però Dai Mancava poco Non Non è stato facile Però Quelle due stelle Se le guadagnate E vabbè 30 secondi Non l'ha fatto Guardagli Allora Gli è rimasto solo quel drago Però Forse quel drago moriva Lo stesso Che aveva poco di vita Comunque Altre tre stelle Vediamo questo Di Daniele Il mio carissimo amico Comunque ragazzi Se volete entrare Nei clan Entrate Dai Gamertube Come vedete in alta destra T grande G grande T grande Per 4 Ho fatto avvicinare Intelligentemente Mongolfiere Avversario L'ha messo giù Con gli arcieri Ora attaccata Ha fatto un bel 100% Io penso che ha fatto Un bel attacco È entrato con Giga Prima ha ucciso L'ha messo Le mongolfiere L'ha tolta E le ha uccise Quelle avversarie Che gli hanno donato A questo qua Perché se no Poi Gli ammazzano Gli distruggiava Tutti gli arcieri E Giga Con quelle bombe Perché mi sembra Che erano a livello 4 Se non 3 Gli sono rimasti Molti maghi Gli arcieri E giganti Perciò Ha fatto un bel attacco Ragazzi Mi scuso Se l'audio Si sente male Cos'è il genere Vabbè Continuiamo Continuiamo Bomber 100% Allora Allora Questo era Ben strutturato Per un livello Come Come il suo Dello sfidante Sempre le mongolfiere A rompere le palle Però Ha messo La cosa Pozione Guaritrice Guaritore Perciò Si è salvato Dai Gli sono rimasti Un bel po' Pure di arcieri Giga Perciò Un bel attacco 100% Oppure qua Io penso Come Come giocatori Sanno attaccare Bene Alcuni Però Gli altri Sono anche inattivi Cioè Ci sono i giorni Che non c'è la war E sono attivi Poi c'è la war E non sono attivi Cioè Una cosa assurda Comunque Vediamo Altro attacco Di bomber Questo rispetto All'altro è più scarso Perciò lo doveva Abbattere Cioè Ho usato Quei giganti Che gliel'hanno fatti fuori Che era meglio Non usare in quel modo Però Però ha fatto un bel 61% Comunque Vediamo L'altro attacco Che è Delekin Lui è l'ultimo Infatti ha attaccato Il suo corrispondente Ha fatto un buon attacco Dai Tutti quelli Sotto il set Dobbiamo fare Dobbiamo fare almeno Come minimo Tre stelle Perché Quelli là di sotto Sempre devono Essere sconfitti Al 100% Ok Ho ucciso tutti questi giga Pure lui Ha fatto Stato astuto Ha mandato i giganti Che per poco Non morivano Alla fine Tutti Gli ne sono rimasti Almeno 4 Vabbè E così via Dicendo E ha fatto Mi sembra 98 No 100% Sì Me le attacco Io penso Ce la stiamo cavando bene Poi vediamo L'allmaster No Il suo corrispondente Questo è l'ultimo L'allmaster 93% Questo Non l'ho visto Perché gli altri L'avessi prima Prima di entrare Prima di registrare Pure lui Giganti Li ho messi Tutti fuori uso Li ho messi A pozione Per Il mortaio E un po' Rompipale Bello che Toglie 8 Ma non è vero Che toglie 8 Perché con Una bomba Con una palla Del mortaio Cioè Tutti gli arciari Muoiono Gli arciari Mi sembra che hanno Non so quanto Almeno 40 di vita Ce l'hanno E con 8 Di 7 5 Del mortaio Quello era A livello 2 Mi sembra Come fa a uccidere tutti Boh Vabbè Continuiamo Ha fatto un bel attacco Forse Perché c'erano pochi Arciari E giga Sono lenti Non ha potuto fare Il 100% Mi sembra Infatti ha fatto 93% Peccato Per pochissimo tempo Altri 15 secondi Ce l'avrebbe fatto Comunque Vediamo Questo No Bomba L'abbiamo visto Bomba Di nuovo Daniele Si Beccate Tard Che è il primo Del nostro Clan Come livello E tutto Perciò Dovrebbe Fare il 100% E tutti i due attacchi Ha fatto Neanche una stella Vabbè Le altre volte Ha fatto Almeno una stella È stato solo sfortuna Dai Quel drago Sempre Rompere Le palle Dai È stato forse Un po' Genu Per me Nelle war Non si deve attaccare Con I Barbari Arciari Scusate Comunque Non si deve attaccare Con i barbari Arciari Perché sono troppo Deboli Poi soprattutto Con questi qua Che sono forti Comunque Vediamo Ultimo Attacco Chiudo qua La prima parte Di questo video Della war Dunque Dunque Come sempre Arciari Barbari 17 giga Cioè Come Come livelli Dei giganti Barberi Ceri Cosa È uguale Al mio Come villo Più o meno